Torna a Cesena la giornata del muratore. La manifestazione che celebra il lavoro di tutti gli uomini e le donne operanti nel settore edile, organizzata da CNA, è giunta quest'anno alla sua terza edizione. Sono circa 1900 le imprese fra quelle edili e dell'impiantistica che operano, per quanto riguarda le imprese di CNA Follicesena, che operano nel panorama provinciale. Quindi capite che è estremamente importante e ancora oggi la dimostrazione che siamo qui a distanza di tre anni, in un momento, come ricordavo un attimo fa, di grande difficoltà, dimostra tutto quello che è l'interesse da una parte, l'attenzione, ma anche la determinazione di CNA per supportare le imprese del comparto edile anche in questa fase. Ospite della giornata, il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che ha partecipato alla cerimonia di consegna della Cazzuola d'Oro e che non ha risparmiato parole di elogio per i lavoratori di un settore tanto nobile quanto spesso non abbastanza tutelato. C'è sempre da far meglio dal punto di vista della tutela, della salute e della sicurezza nei posti di lavoro, quindi riconoscere questo dato, essere attenti a chi fa questo lavoro e cercare in qualche misura, come posso dire, di rendergliene merito e di ricordarle. Io credo sia una cosa giusta che le istituzioni debbano fare, qui abbiamo un'occasione, c'è un monumento che rappresenta storia, tradizione e anche l'attualità di questa attività, quindi per me è un passaggio molto bello, molto importante e ho fatto molto volentieri.